Ben trovati al commento del Vangelo di questa domenica che ci presenta la guarigione dell'Ebroso siamo al capitolo 1 del Vangelo di Marco al versetti 40-45 in quel tempo venne da Gesù un lebroso che lo supplicava in ginocchio e gli diceva se vuoi puoi purificarmi ne ebbe compassione, tese la mano, lo toccò e gli disse lo voglio, sii purificato e subito la lebra scomparve da lui ed egli fu purificato e ammonendolo severamente lo cacciò via subito e gli disse guarda di non dire niente a nessuno va invece a mostrarti al sacerdote e offri per la tua purificazione quello che Mosè ha prescritto come testimonianza per loro ma quello si allontano e si mese a proclamare e a divulgare il fatto tanto che Gesù non poteva più entrare pubblicamente in una città ma rimaneva fuori in luoghi deserti e venivano a lui da ogni parte il racconto presenta un succedersi di inosservanze il lebroso va da Gesù e non poteva farlo Gesù tocca il lebroso e non avrebbe dovuto farlo poi Gesù gli comanda di non dire niente a nessuno e il lebroso invece va a dire tutti quello che il Signore aveva fatto già questo è un primo insegnamento e cioè che noi non andiamo dal Signore Gesù quando siamo tutti in regola noi andiamo dal Signore Gesù così come siamo non perché siamo cristiani di marca cristiani di firma, griffati il Vangelo di Marco dopo aver raccontato tanti dettagli sulla guarigione della socia di Pietro e prima ancora dell'uomo posseduto dallo spirito impuro nella sinagoga di Cafarnao dopo tutti questi dettagli così precisi a Cafarnao ora per raccontare la guarigione del lebroso non dice nulla quasi quasi ci sembra anche di non riuscire a individuare in quale posto, in quale luogo preciso Gesù abbia compiuto questo miracolo e questo sembra esserci di aiuto per ampliare i nostri confini della riflessione perché quasi quasi ci vuole dire il testo che di lebra facciamo tutti esperienza ed ovunque cioè la lebra contagia in ogni posto chi è malato di lebra mostra che la morte si mangia pezzi di vita davanti agli occhi di tutti e questo la rende una malattia spaventosa possiamo domandarci ma quanti ambienti in quanti nostri ambienti la vita è fatta a pezzi dalla morte magari un po' la volta come la lebra ma la divora pensiamo per esempio al dilagare dell'indifferenza fa di ogni ambiente un luogo di contagio un luogo dove la vita è fatta perde pezzi e la lebra la rende a brandelli anche le piazze digitali anche in esse ci si ammala di lebra che fa a brandelli la vita quindi anche oggi non potremmo definire un luogo solo un luogo unico per parlare di lebra ma dovremmo pensare che tutti i nostri luoghi sono sempre sotto la minaccia di questa vita che può perdere pezzi e Gesù al vedere il lebroso neve compassione e il testo in origine dice che Gesù si arrabbiò Gesù affronta così la malattia Gesù quasi quasi fa a pugni con la malattia si mette di fronte per fermarla fa capire che sarà lui l'ultima parola e non la morte e la malattia e personalmente mi colpisce sempre quando Gesù è messo di fronte al mistero del dolore mi colpisce che non faccia mai discorsi ma si avvicina, si accosta prende per mano in questa sua esperienza di vicinanza e poi una volta guarito Gesù caccia via il lebroso Gesù non si serve delle persone per far crescere i followers che possono farlo diventare più importante ancora Gesù vuole la guarigione e il bene dell'uomo che stava lì davanti e che perdeva pezzi di vita malato di lebra Gesù non cerca mai un tornaconto di immagine caccia via quest'uomo perché eventualmente lo vorrà ancora con lui solamente se sceglierà di essere suo discepolo e l'ebroso guarito disobbedisce a Gesù e racconta a tutti l'accaduto e anche questo ci insegna che la guarigione ha un suo compimento quando viene condivisa non si tratta non si tratta mai quando abbiamo a che fare con il Signore Gesù che ci libera e ci guarisce non è mai un fatto coperto dalla praiva siccome se si dovesse conservare nel fascicolo sanitario riservato ma quanto noi riceviamo in dono e per grazia va sempre condiviso e annunciato agli altri il racconto termina ricordando che Gesù non poteva più entrare pubblicamente in una città in luoghi pubblici e se ci pensiamo questa è la condizione dell'ebroso Gesù quando guarisce quando sana quando libera prende su di sé la condizione di chi ha guarito e così Gesù non solo opera ma si identifica sempre con colui che incontra il messaggio di questo racconto del Vangelo e di insegnamento anche per la vita religiosa chiamata non solo a gestire opere ma ad assomigliare sempre più a Gesù il quale non solo opera quando incontra qualcuno quando lo guarisce quando lo libera ma si identifica nella condizione in cui egli si trova a vivere così anche noi religiosi possiamo attraverso le nostre opere fare esperienza condivisa di essere sì vicino alle persone per aiuto e servizio ma siamo chiamati a identificarci sempre più anche nelle loro condizioni per camminare insieme buona domenica a tutti nell'ascolto del Vangelo di oggi grazie 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 grazie